Ma fatemi capire, abbiamo un consulente commerciale dedicato alla vendita e all'acquisizione di naked e super sportive che fa anche l'istruttore di guida, fammi capire bene. Ciao Andre, ciao, grazie. Ma quando è che vieni in pista? Ma vorrei venire, ti dico la verità, vorrei venire, ma prima invitiamo loro e poi ci pensiamo a noi. Allora, venite in pista con noi, venite a trovarci in showroom per scegliere la vostra moto usata o quella nuova. Ci vediamo in showroom, moto argento, amore, passione, dedizione. Sempre, ciao! Allora ragazzi, poche regole, mi raccomando, casco ben allacciato, non superate l'istruttore, non fate le impennate, non fate l'elastico soprattutto perché altrimenti appena vediamo una cosa del genere vi buttiamo subito fuori e non girate più. a Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!